Musica Ma che è successo, scusi, che è successo? Ah, non lo so, io so che adesso Dice che hanno ammazzato una donna Hanno ammazzato una donna? Una donna? 20! 20 donne hanno ammazzato? Ma dove? Qui? In questo condominio? Sì, l'assassino viveva con un nano rinchiuso nell'armadio Lo torturava Ma chi è, scusi? Il mostro, quello che facevano le donne a pezzetti Ho sentito che l'hanno preso? Il mostro, quello che facevano le donne a pezzetti, l'hanno preso? Ma era uno qui del condominio? Parle di sì No E chi è? L'amministratore? Ah, non lo so, può darsi Come no, è l'amministratore sicuro Grazie